Avere una casa di proprietà non è sempre l'opzione migliore. Tutti dicono il contrario, lo so, ho sentito gli stessi spot e visto gli stessi cartelli pubblicitari che dicono il contrario. Io, ad esempio, potrei permettermi una casa, ma sono in affitto. Perché? Perché per me ricchezza vuol dire anche flessibilità, la possibilità di potermi alzare un giorno e spostarmi e poi la retta dell'affitto è il massimo che si paga, mentre il mutuo è il minimo. Perché perché quando si ha un mutuo, si aggiungono anche i costi di manutenzione, le tasse, gli interessi, tutte queste cose. Quando sei in affitto, invece, il prezzo rimane fisso. Mai sentirsi in colpa per aver preso una scelta non convenzionale con i vostri soldi, perché ognuno ha la propria concezione di ricchezza.